Buonasera a tutti voi sopravvissuti, siamo qui tra scienziati e quindi facciamo la scienza, stasera facciamo la scienza. Io rappresento, oltre a rappresentare ovviamente la Lega Nord, rappresento anche AMREF, ma sulla Lega Nord se volete possiamo aprire dibattito, ma per il momento parliamo di AMREF e del fatto che con AMREF devo stare stretto, lo so perché ci stanno chiudendo, ma molti hanno fatto in tempo uscire, ma voi no, per cui o ve ne andavate prima o stavamo qui fino a domani mattina. La fotografia l'abbiamo fatta e mi è capitato, qualcuno di voi lo saprà, mi è capitato sovente di andare in Africa, mi è capitato che mi sono aggirato per questo pianeta. Ci sono anche delle fotografie, mi hai chiesto, portaci fotografie, portaci fotografie, portaci fotografie, e non ne ho mai chiesto fotografie. Ah, tu fai fotografie e intanto metterle là sopra. Va bene, no, vi volevo parlare di un popolo primitivo, perché sai come sono i primitivi? Sono primitivi, non è che uno dice quello è primitivo. No, no, sono proprio primitivi. E questo popolo primitivo, io l'ho incontrato, ne ho incontrato tanti i popoli primitivi, i d'Inca, i cao, i turcana, ma io volevo parlare di turcana, perché una volta volevo fare un film in Africa e ho detto, ma lo vado a fare con i turcana, perché era un posto che a me piaceva molto, a nord del Kenya, insomma, tra il Kenya, il Sudan, l'Etiopia, da quelle parti là. E quindi piglio, parto da Roma, prendo l'aeroplano, arrivo a Nairobi, no, a Nairobi prendo l'aeroplano africano, che non so se qualcuno ha preso mai un aeroplano africano, e si capisce che è africano, è proprio, sta in pista, poi quello che ho preso ieri del Madagascar, c'era scritta Madagascar, e io le ho guardate, ma se mi ero occhi nuti del Madagascar, non c'è bisogno che ci ho scritto. Si capisce che è il Madagascar, è evidente, era una cosa, ma se si usa come si usa, fa la corriera qua una volta, no, il gente sale, mette le galline, la cappelliera, la galliniera si chiama, comunque piglio l'aeroplano, arrivo a Nakuru, a Nakuru prendo un aeroplano africano, piccolino, a pedali, io piloto in Africa, poi un giorno, se abbiamo tempo, vi racconto pure la storia di Benoit, che mi ha insegnato a pilotare l'aeroplano, perché Benoit è un, parlo con lui perché ancora sveglia, e, no, Benoit era un pirenaico, no, un pilota pirenaico che in Africa aveva fatto il mercenario, per cui era un catalogo bolaffe di tutte le malattie, di tutte le mutilazioni, non teneva una coscia, non teneva una madre, insomma, era veramente malconcio, aveva tutte le malattie del mondo e mi sedevo sempre vicino a lui e pilotavamo insieme, finché un giorno, sorvolando, mi diceva, pilota tu, pilota tu, perché ho imparato in francese a pilotare, pilota tu, dico, oui, je pilota, ma pourquoi? Dico, perché come sa mi riposo, e dico, bien, riposo, e il pilota, attenzione, non entrare a quelle nuvole che dentro c'è un sasso, dico, eh? Dico, non entrare nelle nuvole che dentro c'è un sasso, dico, che sasso c'è? E chi mi mangia? Dico, cazzo, che sasso c'è sta là dentro, e dico, è un bel sasso grosso, stavo chiedendo di mangiare, è grosso. E comunque, Benoit, tanto per dirvene una, mentre sorvolavamo Tanzania, ha avuto un attacco di malaria, allora su questo Cessna bimotore, mi ha detto, pilota tu, pilota tu, io dico, i pilota, ma tu fai un pressa, e mi sono messo a pilotare, e Benoit con questo attacco di mare tutto surato, poi chiatto Benoit, tutto surato, gli è venuto un attacco, che ha aperto il finestrino del Cessna, ha messo il culo fuori dal finestrino del Cessna, e io non è che pensavo a Benoit, pensavo a quello della Tanzania, che stavano là sotto e dicevano, è cinque anni che non piove, ma è possibile che stamattina da piovere merda? Ma come è possibile? Comunque, detto questo, detto questo, ora lasciamo aperto questa argomentazione qua, detto questo, prendiamo questa aeroplanina, arriviamo all'occhi ciocchio, per essere precisi, e all'occhi ciocchio prendiamo questa macchina, questa gifo, cammina, 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 arriviamo in mezzo ai turcani, bellissimo popolo primitivi, tutti nudi, tutti nudi, le donne hanno soltanto una cintura di perline colorate qua intorno alla panza, orieste nudo, no, è tutto nudo, ma perché l'ombelico non si può fare, non è una cosa, non è una cosa, gli ognuno sono tutto nudo, con la cacca spalmata in testa, tutta rossa sta cacca, un caschetto di cacca in testa, un cacchetto praticamente, con le penne, con questo capitolo che andava in cima, a certe cose perché fanno paura, vi racconto quest'altra posta, tanto che c'è una cacca, c'è una fotta, c'è una stanza inzzurrata, tanto che c'è una porta, già inzzurrata, i turcani si costruiscono una specie di seggiolina, che loro usano per due motivi, per dormire e per sedersi, per cui su questo seggiolino deve essere sufficiente tagliato in un unico blocco di legno, deve essere sufficientemente alto, basso, perché quando ci dormono per evitare che gli animali di entrare, non è che può non stare così, quindi deve essere più basso possibile, ma non può essere troppo basso perché quando si siedono o capitolo non ha dato canterra, per cui deve essere sufficientemente alto per evitare questa operazione. Quando mi sono arrivato dalla jeep ho scaricato un seggiolino dell'Ikea che era tanto, e mi sono assettato in coppa su seggiolino, ma si pisciavano sotto alle risate, ma tu sai che venivano a guardare dentro i pantaloni, ma che tiene che a dinta, dica amica mia, io tengo tutto arravagliato, torno, torno, come una salvaggenda, ma tu veramente stai pazziando, comunque sono arrivato in questa località turcana che volevo fare questo film e come tutti voi sapete i turcana parlano turcana e come tutti voi sapete a scuola a Napoli non so studio turcana, per cui tenevano un traduttore che dal turcana traduceva in Swahili, ma io non so neanche Swahili, per cui tenevano un traduttore che dallo Swahili traduceva in inglese, i sacchi in inglese? No, per cui tenevano un altro traduttore che traduceva in inglese, polla, non so che gente, non so che gente, e c'erano questi turcana, certi beni, i lotici sono bellissimi, altissimi con lo scudo, la lancia, ho capito, ho caschetta, per cui mi viene incontro il capo, il villaggio, il capo tribù, che si riconosceva perché teneva proprio una montagna e merda, era una cosa, aveva messo proprio la testa sotto la vacca, boom, e si era fatta questa permanente improbabile, no? Si avvicina, come succede in tutti i paesi primitivi, ma civili, quando le persone si incontrano, si salutano, ovunque si incontrano, si salutano, comunque, vengono, incontro questo capo tribù, e io lo saluto, dico, buongiorno, traduttore traduce, dice, good morning, chi l'ha traduce, dice, a barijaku, chi l'ha traduce, dice, soba, al po' torna indietro, soba, a barijaku, good morning, kait, buongiorno, era passata un quarto d'ora, ma tanto, non tenevamo, non cazza fa, stavamo là, e dico, e lì comincia questa contrattazione, io sono venuto perché volevo fare un film, non avete idea di quelle che hanno combinato, zumbavano tutto quanto, eeeh, poi saltano, tutti partono, e i capitoni, eeeh, ma sembrava la sagra della sizia del capitone, tutto, e poi in mezzo al villaggio c'era un falò, è passata una capra, o capo villaggio, ha guardato la capra, la capra ha guardato il capo villaggio, che brutto presentimento, che venga, e infatti, il capo villaggio ha pigliato la capra e l'ha messo sopra al falò, viva, viva, sta povera bestia, mehe, mehe, poi gli ha staccato una coscia, malatata, io l'ha zannata la capra, beh, è ancora un po' cruda, mi pare, per carità, ma dice no, no, a noi ci piace il sangue, ci piace il sangue, e dico, boh, ci mangiamo la capra, dopodiché, dopodiché, abbiamo bevuto una bevanda, che loro portavano dentro delle ciotole di, delle zucche tagliate, bevanda giallognola, che non sa c'è che era, e ho evitato di chiederlo, per evitare proprio di avere degli sconforti, poi ci siamo fumati dell'erba, che cresceva spontaneamente, e non era male, la verità, non era male, era una gran bella erbetta, che cresceva sull'est, non è che nessuna, e abbiamo ballato e cantato tutta la notte, zomba, zomba, ma certo capodonato, bam, bam, certo si è zettato in faccia, una capodonata a cadere, all'alba, si è fermata la festa, perché il cavolo l'ha già alzato lo scudo e la lancia, si è misa così, e si è fermata, tutto quanto, ma una cosa impressionante, il capovillaggio è venuto da me con un'aria marziale, marziale, non è un taglio e merda, anche un po' marziale, più di tanto non potrebbe, con un'aria marziale è venuto verso di me e mi ha detto, con delle traduzioni improbabili, mi ha detto, noi siamo felici che tu sei venuto qui a fare un film con noi, ma che è un film? Non lo sapevano, perché sono primitivi, sono primitivi, allora la domanda che io mi sono sempre posto da quel momento in poi, qual è il popolo più primitivo? Quello che quando li vai a trovare fanno una festa, solamente perché sei andato a trovarli, o quello che quando tu ti avvicini a posto e ti sparano con un fucile a pallini? Qual è il più primitivo? Secondo me il secondo dei due popoli. Grazie a tutti, arrivederci. Chiudiamo? Chiudiamo? Venete immediatamente che c'è un serrano!